Da un po' di anni noi abbiamo alcuni partner eccellenti per riuscire in qualche modo a continuare la nostra attività interculturale durante tutto l'anno e non confinarla nei spazi del festival. Tra i partner c'è sicuramente Tredo Stabile dove in generale c'è uno spettacolo come abbiamo fatto Oliver Quista che è andato benissimo a dicembre dal punto di vista biatrale. Con la regione di Curia, ma non solo la regione di Curia perché c'è l'Università, c'è l'Università, riusciamo a mettere in qualche modo in rete molti istituti scolastici, molte realtà informatici e andiamo come con la mia noma degli artisti di diverse provenienze nelle scuole a raccontare come l'arte ha da sempre valorizzato le differenze e quindi in qualche modo una testimonianza, un esempio di come la contaminazione non è per forza di cose negative. Questo ci ispira e affianca queste, diciamo, utilità nelle scuole con gli studenti, 5.000 sono gli studenti in rete. Abbiamo la rassegna Superuniversità, coordinata insieme a Marco Aime e a tante persone dell'Università di Genova e quest'anno avremo degli ospiti eccellenti, ne cito uno perché sicuramente è un po' in qualche modo rappresentativo della cultura nazionale, è un testimone di grandezza veramente non eccellente che è il Goffredo Fofi e insieme a lui abbiamo Lucio Demetrio, verrà anche Peter Gomez a parlare di come si può fare comunicazione e di come si diventa piazza virtuale, ci saranno Papotti, Luca Borzani, tantissimi studiosi e questo direi è aperto alla cittadinanza tutta e speriamo che siano incontri interculturali e intergenerazionali perché questo a noi interessa.